Ad assistere al match c'erano due spettatori davvero d'eccezione, ovvero gli ex Rafael Vieira de Oliveira e Osmani Quantorena. Tutti e due acclamatissimi, tutti e due davvero circondati dalla folla alla fine di ogni set, da tantissimi supporter, da tantissimi tifosi che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza, il loro affetto ai due ex giocatori di Trento. Rafael Vieira de Oliveira ci è scappato, i due giocatori sono andati via prima della fine del match, siamo riusciti però a pizzicare Osmani Quantorena, andiamo a sentire le sue parole. Mi manca un po' Trento, un po' tanto, ma sono venuto a guardare una bella pallavolo e a salutare poi i miei amici. Come ti trovi in Turchia? Bene, mi trovo bene, di certo non è Trento, è una città molto grande, con altre culture, la pallavolo purtroppo non è molto seguita, ci sono poca gente a vedere che della partite, però è normale, secondo me con la finale di Champions adesso lì in Turchia faranno tanto bene. Torni a Trento, lo speri? Ci pensi? Potrai farlo? La mia priorità è Trento, lo sanno tutti, io ho un anno di contratto con loro, dopo fine stagione si dirò al tavolo con Mosna e vediamo, ma io ci sono, poi dipenderà dalla società, si vuole continuare o si vuole fermare, non lo so.